Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del nostro magazine che apriamo con una notizia destinata a far discutere quella rimbalzata da tutti gli organi di stampa e che vede Torino come comune capofina nel riconoscimento in Italia di un bambino con due mamme. La registrazione è stata presa in prima persona dal sindaco Chiara Appendino che proprio nei giorni scorsi aveva manifestato la volontà anche a costo di andare contro la legge di esaudire la richiesta di una coppia omogenitoriale. Ci racconta tutto Alessandra Della Ca. Solo un mese fa il comune di Torino non aveva voluto registrare l'atto di nascita di una coppia di gemelli con due papà nati in Canada. Ieri la svolta storica con la firma all'anagrafe del primo bambino nato in Italia da due genitori dello stesso sesso, due mamme per l'esattezza. Una è Chiara Foglietta, consigliera comunale del PD e l'altra è Micaela Ghisleni. Con il loro figlio formano la prima famiglia italiana omogenitoriale riconosciuta senza l'interferenza di un tribunale. Un gesto forte. Appendino ha dichiarato d'aver così contribuito a scrivere un pezzo di storia, consapevole di aver forzato la mano in una situazione di vuoto normativo, dove l'articolo 250 del Codice Civile, per cui un bambino è figlio di un padre e di una madre, non concepisce che non possa esserci una figura maschile. E se si entra ancora di più nella legge, nel caso di una registrazione che riporta mamma e mamma, il prefetto potrebbe o dovrebbe annullare l'atto del sindaco. Cosa già successa in passato, quando i prefetti depennarono i matrimoni civili di persone dello stesso sesso, magari nel caso di riti celebrati all'estero. La questione è normativa, certo, ma è anche etica. E se lo stesso sindaco, Chiara Appendino, si è erta a paladino della giustizia morale, prendendo appunto posizione in prima persona lo scorso 17 aprile, quando l'ufficio anagrafe dell'ospedale Sant'Anna si era rifiutato di registrare il piccolo appena nato, ora gli occhi si posano sul Vaticano e su quell'apertura mentale che Papa Francesco ha mostrato in più occasioni, come nel caso della possibilità per i divorziati risposati di fare la comunione. Lui, pioniere del progresso, inteso come sinonimo di apertura verso il nuovo, è chiamato ad esprimersi su una rivoluzione di cui è ben nota la posizione della Chiesa, che riconosce nella famiglia non un bene della stessa Chiesa, ma della società. La giornalista e docente Eugenia Romanelli ha analizzato in un suo articolo come dai primi rapporti psicologici sulle famiglie omogenitoriali siano passati oltre 40 anni e che, come solo di recente, la comunità scientifica internazionale abbia raggiunto l'unanimità sul principio che non sussistano differenze significative fra figli di genitori omosessuali e di quelli eterosessuali. Tuttavia, prosegue sempre la Romanelli, esiste una posizione minoritaria, ma rumorosa, di alcuni ricercatori che sostengono il contrario, ossia che l'omogenitorialità sia causa di disagio per i figli. Ci sono genitori etero meravigliosi e altri che non sono in grado di crescere ciò che hanno procreato. Ci sono mamme che si occupano dei propri figli da sole, papà separati che in molti casi lottano per il diritto ad essere padri. E ci sono coppie omosessuali, come quella di Torino, che da ieri hanno, esattamente come una coppia etero, il difficile, difficilissimo compito di seguire nel suo percorso di vita il loro bambino, ignaro del clamore mediatico sollevato in suo nome ed inevitabilmente dimenticato in termini di tutela della privacy e dei minori. Ed ora la nostra pagina di cronaca. Elena Ceste sarebbe morta cadendo accidentalmente e non per mano del marito Michele Buoninconti. E questa è la tesi dei difensori dell'uomo condannato sia in primo che in secondo grado a 30 anni di carcere. I legali stanno per ottenere la restituzione del fascicolo della sentenza e sono decisi ad impugnarla per fare in modo di ottenere un nuovo processo. Sentiamo che ti... Potrebbe ripartire da zero l'inchiesta sulla morte di Elena Ceste. Questo almeno è quello che sperano Enrico Scolari e Giuseppe Marazzita, i legali di Michele Buoninconti, condannato sia in primo che in secondo grado a 30 anni di carcere per l'uccisione e l'occultamento del cadavere della moglie, scomparsa nel gennaio del 2014 da Costigliole Dasti. è ritrovata nove mesi dopo a 800 metri di distanza in linea d'aria dalla propria abitazione. Secondo la difesa, che si è sempre battuta per l'innocenza dell'uomo, la ricostruzione dei fatti portata avanti dai PM durante i processi e poi supportata dalle sentenze di condanna riportano fatti non veri o comunque poco verosimili. In primis Scolari e Marazzita ritengono che la Ceste, la mattina della scomparsa, sia uscita di casa nuda, lasciando i propri abiti per terra in cortile in quanto in preda di uno stato psicofisico alterato. La donna avrebbe poi vagato a piedi sino alle vicinanze del rio Mersa, tesi supportato dal fatto che i calzini indossati hanno riportato tracce di erba, così come stabilito dalle perizie dei RIS. Qui, essendo senza occhiali, sarebbe accidentalmente caduta battendo il capo contro un'argine. La morte quindi potrebbe essere sopraggiunta per ipotermia e il corpo, alla merce delle piogge invernali, potrebbe essere stato trascinato più a valle, dove poi è stato ritrovato. Ad avvalorare la tesi dei due avvocati è anche la frattura del coccige, compatibile con una caduta accidentale all'indietro. Un altro elemento fortemente dibattuto durante i processi, ancora adesso al vaglio di Marazzita e Scolari, i tabulati telefonici che avrebbero collocato buoni incontri sui luoghi della scena, tra gli elementi chiave dell'accusa e che invece la difesa, ha sempre affermato essere inesatti. Infine al movente, la ceste tradiva il marito, così come hanno evidenziato le chat e gli sms rinvenuti dagli inquirenti, ma il marito ne era al corrente, quindi se si fosse trattato di un omicidio per gelosia lo avrebbe pianificato in maniera ben diversa. Fra i due c'era una crisi, ma la donna non aveva mai segnalato a nessuno di sentirsi in pericolo. Un processo altamente indiziario, i cui puzzle per la difesa possono essere smontati, illustrando così un'altra storia, dove buoni incontri potrebbe alla fine uscirne pulito, sempre che la procura di asti ritenga plausibili la tesi di morte accidentale della ceste. Arrestata una coppia di stranieri per riferimento di un marocchino trentenne è venuto sabato sera alla periferia di Alessandria, accusata di tentato omicidio, ma la vittima non corre pericolo di vita. L'episodio sarebbe legato a un debito o a fatti di droga. Emma Camagna Si è conclusa con l'arresto di una coppia albanese lui, russa lei, la fuga durata poche ore degli autori della sparatoria di sabato notte all'ingresso di Alessandria, vittima un marocchino di trentatré anni, ricoverato in ospedale, sottoposto a un intervento chirurgico, ma non in pericolo di vita. I medici hanno tentato di estrarre la pallottola, ma ci sono riusciti solo in parte. Ancora non ha potuto essere interrogato. Il motivo della lite della sparatoria sarebbe da ricercarsi nel saldo di un debito che la donna aveva con il marocchino. L'arresto della coppia è avvenuto poche ore dopo, vicino a Nizza Monferrato, e l'hanno eseguito i carabinieri. I tre si conoscevano da tempo e lei, attuale compagna dell'albanese, pare che in passato abbia avuto una relazione con il marocchino. Sabato sera il regolamento dei conti finito con la sparatoria. L'albanese nega di aver fatto partire il colpo e indica un'altra pista legata alla droga e alla presenza sul posto di altri albanesi, ma non nega il diverbio. L'arma non è stata trovata, è stato disposto un test per individuare l'eventuale presenza di tracce di polvere da sparo sugli abiti o sulla pelle dei due. Cambiamo argomento. Dopo l'unione dei rispettivi distretti sanitari avvenuta nel 2016, Ovada e Acqui entro il 2018 firmeranno un accordo per la fusione anche dei relativi servizi sociali. Sentiamo il servizio di Fabrizio Mattana. Si torna a parlare di fusione fra servizi sociali dell'Acquese e dell'Ovadese, un'ipotesi per la verità caldeggiata maggiormente da Ovada con il sindaco Lantero, sempre più convinto che i rapporti con Acqui, che sono ottimi, porteranno ad un'integrazione efficace e quindi la partita vada chiusa entro l'anno. Più prudente invece è Lorenzo Lucchini, sindaco della città termale. È un'opzione da valutarsi molto attentamente, tenendo conto dell'imminente scadenza della giunta regionale e quindi l'iter potrebbe subire lentamenti, ha affermato il primo cittadino, sottolineando anche da parte sua gli ottimi rapporti con il collega Lantero. L'unione fra servizi sociali è un passaggio fondamentale dopo che i rispettivi distretti sanitari si erano già fusi nel 2016, ma è evidente che è necessario tener conto delle differenze fra le due realtà, valutandone i pro e i contro. Un lavoro da portare avanti minuziosamente, ha dichiarato Ivana Maggiolino, non solo in veste di sindaco di Silvano D'Orba ma anche come presidente dell'Assemblea dei Sindaci. Il Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese serve 16 comuni. L'8,61% dei loro abitanti hanno usufruito nel 2017 delle sue prestazioni e dal bilancio approvato recentemente risultano investimenti sul territorio di 2.200.000 euro. L'Asca di Acqui serve invece 29 comuni, alcuni dell'Astigiano, e da più di 20 anni si distingue per un lavoro di alta qualità nell'ambito di aiuti per ricerche di lavoro, servizi sanitari, assistenza IMS, con l'intento di promuovere il benessere delle persone e la qualità della vita dei singoli e della collettività, promuovere l'autonomia e la capacità delle persone, garantire a minori un ambiente familiare e sociale adeguato, limitare il ricovero in strutture di anziani e disabili, favorire l'integrazione sociale di soggetti più svantaggiati, collaborare con altri servizi ed interventi del territorio per offrire al cittadino interventi integrati. Visite pastorali per il Vescovo di Tortona, impegnato nel Novese, nel Tortonese e nel Genovese. Si tratta di un momento di forte vicinanza con la gente e con il territorio. Noi l'abbiamo incontrato a Castelletto d'Orba, in provincia di Alessandria, dove ha fatto visita al Resort Villa Carolina. Per noi c'è Racchetti Porcedo. Eccellenza, da qualche periodo lei ha iniziato le visite pastorali, un lavoro molto lungo, un lavoro di fede per avvicinare sia le realtà produttive, ma anche i semplici cittadini al mondo della Chiesa. Ma qual è esattamente il significato di queste visite che lei sta facendo? Il significato è molto semplice. Il pastore, il Vescovo, che cerca di conoscere più da vicino le realtà delle singole parrocchie, anzitutto le comunità cristiane, quindi visitandole direttamente. Il programma della visita pastorale prevede anche la visita agli anziani, agli ammalati, i bambini, il catechismo, tutte quelle che sono le attività di una comunità parrocchiale. Lei ha già fatto tutto il Vogarese, il Tortonese. Oggi si trova al Resort Villa Carolina di Castelletto d'Orba, che fa parte della diocesi di Novi, farà ancora tutto il Novese, tutta la parte del Genovese. Ecco, in una società come la nostra, quanto il cristiano si è allontanato da Dio e quanto invece vuole ricercare Dio? Sento da diverse parti, in tutte le situazioni, un desiderio di ascolto, di una parola che possa illuminare quello che viviamo, perché la fede cristiana è una fede incarnata, è dentro le cose. Il Vangelo che va ad illuminare le realtà più profonde della vita dell'uomo ha qualcosa da dire sulla nostra vita, sulle domande di fondo, quelle che tutti prima o poi dobbiamo affrontare, ma anche sulle questioni dove l'uomo si esprime, penso al mondo del lavoro, ad esempio, al mondo della scuola. È un tempo in cui si avverte un certo disorientamento, ma si avverte anche il desiderio di un ascolto. Direttore, oggi avete avuto la visita del Vescovo qui al Resorte Villa Carolina? Oggi Villa Carolina sicuramente sta diventando un'azienda molto importante sul territorio, fondamentalmente perché stiamo cercando di proporre questo prodotto, che è un prodotto importante e sicuramente di livello, lo stiamo proponendo soprattutto all'Europa, al nord Europa, avendo le possibilità dei nuovi voli che ci saranno sull'aeroporto di Genova, abbiamo la possibilità di avere questi nuovi mercati, che sono molto importanti e saranno quelli che favoriranno un allungamento della stagionalità. Oggi la stagionalità del Golf è di 7 mesi, iniziamo ad avere 8-9 mesi, puntando su questa clientela dove sicuramente avranno la possibilità di muoversi per l'arco dell'anno e quindi noi saremo pronti ad accoglierli, sperando con una struttura all'altezza della situazione. Oggi si sta già presentando molto bene, siamo in fase embrionale, è il primo anno che siamo sui mercati. La risposta al momento, devo dire, è molto importante, è molto soddisfacente. Oggi noi abbiamo un'occupazione del 90% di stranieri, speravamo qualcosa di più sul mercato italiano, però il mercato italiano è sempre molto più lento da svegliarsi, da risvegliare. Il mercato straniero ha risposto subito bene, la Svizzera in assoluto. Nel contesto di Villa Carolina Resort abbiamo fatto questa nuova apertura di questo ristorante San George. Il ristorante San George sarà il completamento di quelli che saranno i servizi che noi stiamo per offrire al cliente. Un completamento perché l'abbiamo basato su una ristorazione di altissimo livello, il cliente dell'albergo può già usufruire di questo servizio, stiamo promuovendo il ristorante San George nel territorio perché sicuramente quello che noi andiamo a proporre è un qualcosa di particolare, sempre però legato a quelle che sono le abitudini del territorio, quelle che sono le caratteristiche del territorio che non dobbiamo mai perdere di vista. Novi Ligure e Genova insieme per intraprendere un'iniziativa istituzionale tesa a trovare un percorso rivolto allo sblocco della difficile situazione dell'ILVA. Sentiamo Enrico Mariano. Intraprendere insieme un'iniziativa istituzionale tesa a trovare un percorso rivolto allo sblocco della difficile situazione del gruppo ILVA. È questo l'obiettivo dell'incontro richiesto dal sindaco di Novi Ligure Rocchino Mugliere a Marco Bucci, sindaco di Genova. I due primi cittadini si vedranno lunedì nel primo pomeriggio nella città della Lanterna per un confronto sulle difficoltà che sta attraversando il gruppo siderurgico nella trattativa riguardante il governo, la società indiana Acelor Mittal e i sindacati. Il futuro dell'ILVA di Genova di Novi, afferma Rocchino Mugliere, è legato all'esito di questa trattativa e all'evolversi ovviamente della situazione nello stabilimento di Taranto. Per questo motivo ritengo utile, prosegue il sindaco, valutare insieme al primo cittadino di Genova Marco Bucci di intraprendere un'iniziativa istituzionale che possa contribuire a sciogliere i nodi di questa ingarbugliata vicenda. Intanto a seguito di nuovi documenti presentati da Acelor Mittal, che dovrebbero scongiurare il rischio di trovarsi ad occupare una posizione predominante in Europa, è nuovamente esilitata, questa volta il 23 maggio prossimo, la scadenza per il pronunciamento dell'antitrust UE. La notizia, spiega al sindaco Mugliere, può far pensare ad un'evoluzione positiva della vicenda, ma è nostro dovere rimanere vigili e dare il nostro contributo, per quanto ci compete, a trovare una soluzione. Ed ora gli studi sulla storia del Monferrato condotti dal circolo culturale, i Marchesi del Monferrato, che stavolta ci portano fino in Sicilia. Non tutti sanno infatti che Alessandrini e Daleramici nel Medioevo sono emigrati nell'isola, periodo quasi dimenticato, ma è che ha ancora molte testimonianze. Ci racconta tutto De De Vinci. È stata un'altra occasione per conoscere meglio la storia del Monferrato. Si è tenuto a Palatio Unvetus, in piazza della Libertà ad Alessandria, che è sede della fondazione Cassa di Risparmio, promotrice di questo incontro chiamato Alessandrini e Daleramici in Sicilia, storia di una emigrazione medievale dimenticata. La conferenza è stata tenuta da Roberto Maestri, presidente del circolo culturale in Marchesi del Monferrato e coordinatore del progetto Daleramici in Sicilia. In apertura il presidente della fondazione Cral, Pierangelo Taverna ha sottolineato come questa è l'occasione per conoscere le radici del nostro territorio e del nostro Monferrato. Lo studio di questo fenomeno storico, ancora tutto da scoprire, ci permette di conoscere il ruolo e l'influenza di Alessandrini e Aleramici in Sicilia. È una storia che parte veramente da lontano, da 900 anni fa, quindi è una storia medievale dimenticata, nonostante i protagonisti furono tanti. Comincia attorno al 1080 per un matrimonio, come spesso accade, tra una nostra conterranea dell'Aide del Vasto e gran comandante dei Normanni che era un giro primo d'Altavilla. E comincia un flusso migratorio verso la Sicilia. Perché? Perché le nostre terre qui in quegli anni erano abbastanza povere, scassamente abitate, la Sicilia invece è ricca, ha avuto prima l'occupazione araba e poi appunto quella dei Normanni che produce ricchezza. C'è il problema di ripopolare l'isola. I nostri vengono scelti dai Normanni come una popolazione adatta, assolutamente, anche dal punto di vista amministrativo. Quindi partecipano nobili, commercianti, artigiani, anche qualche avventuriero ovviamente, si ricca in Sicilia. E già questo primo flusso che dura 20-30 anni porta circa 2.500 persone in Sicilia, che è un numero di grande rilievo per l'epoca. Ecco, questo fenomeno migratorio dura almeno per tre secoli. Molto bene, ora vi lascio alla pagina sportiva dove andremo a rivivere le emozioni della Coppa Italia vinta dall'Alessandria Calcio che ha superato per 3-1 la Viterbese nella finale di ritorno di mercoledì scorso al Mocagatta. Grazie per essere stati con noi, dopo non perdetevi il meteo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti.